Nello splendido scenario della contrata fiumara guardia di Messina, dove si erge il santuario dedicato alla Madonna della Guardia, si sono svolti degli eventi in occasione del centenario dalla sua fondazione per opera di Santa Annibale Maria di Francia. Ieri, 24 giugno, si è svolto il convegno sulla storia del santuario, mentre oggi, 25 giugno, dopo la Santa Messa, presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Giovanni Accolla, è avvenuta la benedizione dei locali ristrutturati dell'Oasi Madre Nazarena. Spirito Santo, amén. Si prega con la preghiera che ci ha insegnato Gesù, ma oggi facciamo una deroga, ci affidiamo alla Vergine Maria, che è Madonna della Guardia, ci aiuti a vigilare sempre nella nostra vita e in quella dei fratelli. Ave Maria. Prendi grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Preghiamo. Guarda, oh Signore, la tua chiesa che ha edificato questo luogo perché sia luogo di testimonianza, di preghiera. Noi ti supplichiamo, Padre Santo, perché coloro che hai scelto, come rardi del Vangelo, imparino nella preghiera ciò che dovranno insegnare e acquisiscano interiormente ciò che dovranno testimoniare. Qui si abitino ad offrire sacrifici spirituali e nella quotidiana partecipazione ai Santi Misteri sperimentino la forza redentrice dei tuoi sacramenti. Qui imparino il raccoglimento e la forza di annunciare il Vangelo con la loro testimonianza di vita per Cristo nostro Signore. Amén. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, sempre a tutti voi e con voi rimangere. Amén. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.